Boniek sta per battere la punizione in area di vigore, Graziani, Mannini, Rete, Rete della Roma che è una squadra incredibile, ha segnato il vantaggio Bonetti, Bonetti ha portato un vantaggio la Roma per 3 a 2, come potrebbe essere il gol scudetto ma potrebbe essere il gol retrocessione del Pisa, visto come stanno andando le cose sugli altri campi, 1-2 incredibile della squadra di Eriksson, ancora Boniek ripropone un attacco, Boniek per Graziani, Graziani entra in area di vigore, per Pruzzo che segna il quarto gol, splendida, stupenda azione della Roma, bisogna dirlo, splendida azione della Roma, con Pruzzo, Graziani e Boniek in tandem hanno fatto il quarto gol, il gol della vittoria e purtroppo la sconfitta del Pisa, questa Roma sta giocando alla grande, il Pisa è rimasto annichilito da quell'1-2, non deve disperarsi la squadra di Guerini, deve sperare fino in fondo ormai, ha segnato Pruzzo, il centesimo gol che fa raggiungere a Roberto Pruzzo Amadei nella classifica speciale dei gol romanisti, 100 gol Amadei, 100 gol Pruzzo, entra nella leggenda Roberto Pruzzo con questa rete, condotto l'azione da Boniek, insistito a passaggio per Graziani, successivamente in area di rigore per Pruzzo che ha battuto imperabilmente Mannini, severa sconfitta del Pisa, 4-2, è troppo pesante, d'altra parte abbiamo veduto una Roma grandissima, ed ecco il possibile gol, ma due volte, due volte!